Mancano sei mesi esatti a quella che i giuristi ritengono la data più probabile per le elezioni regionali, stando almeno alla norma nazionale del 1968 che le regola. Infatti i sardi potrebbero essere chiamati a rinnovare l'Assemblea regionale il 17 febbraio 2019. Questo salva accelerazioni sempre possibili in un quadro politico in continuo movimento e con i partiti che siedono nell'attuale Consiglio regionale, in un diverso stadio di evoluzione anche in conseguenza dello shock politico che sul quadro nazionale ha provocato l'elezione del Parlamento del 4 marzo scorso che hanno portato alla costituzione dell'inedita coalizione tra Movimento 5 Stelle e Lega. Un Consiglio regionale che in questi quattro anni e mezzo è stato definito a porte girevoli con consigli regionali eletti e poi dichiarati decaduti da sentenza della giustizia amministrativa, ricorsi e contro ricorsi che alla fine hanno determinato diversi cambiamenti nella composizione dei gruppi consigliari. Altri cambiamenti sono arrivati in seguito all'applicazione della legge Severino, problemi che non sono stati risolti e che riprenderanno puntuali nella prossima tornata elettorale a meno di modifiche della legge last minute, ipotesi al momento del tutto improbabile. L'unica novità introdotta in questa legislatura è costituita dalla doppia preferenza di genere che dovrebbe portare ad un riequilibrio della presenza femminile nell'Assemblea sarda, attualmente costituita da solo quattro consigliere. Inoltre c'è l'obbligo per le liste di avere lo stesso numero di candidati e candidate. Rimangono gli sbarramenti per le coalizioni, fissati al 10% e per i partiti che si presentino da soli al 5%. Anche in questa legislatura saranno 60 i consiglieri eletti, con una ripartizione territoriale che ne dà 20 a Cagliari, 12 a Sassari, 6 ciascuno a Nuoro, Ristano, Olbia, 2 all'Ogliastra e 3 al Medio Campidano. A questi si aggiungono il governatore e il primo degli sconfitti.